cari utenti di youtube auguro una buona serata a tutti voi e ieri sera sono andato a vedere con un amico mio l'ultima fatica del grande regista visionario che tim barton ossia beteljus beteljus del seguito del mitico beteljus spiritello porcello degli anni 80 consiglio a tutti quanti di vederlo sia coloro che amano il primo film che sia coloro che non lo conoscono perché veramente una bella pellicola molto con tutti gli ingredienti del primo per me per certi aspetti anche superiore alla primo e qui e ci troviamo uno di quei rari casi dove i sequel sono fatti bene non mi è stato a dire che per me questo è anche superiore al primo per certi aspetti perché nel primo abbiamo soltanto un film che ruota intorno ai due protagonisti che sono i coniugi mainland e tutto ruota intorno a loro mentre il resto fa da condono quindi abbiamo una storia più corale una storia familiare che si intervall che incentrata sul rapporto familiare fra figlia madre e nonna praticamente nella bella cornice familiare dove si alternano insomma tutto dove si alternano tutta tutto i personaggi che fanno da sfondo a partire da dal mitico michael keaton che fa bene giusta poi ci sono sempre le musiche bellissime di deniel fu man e come per me un sequel ancora migliore dell'originale abbiamo sempre lo stesso castro come partire anche un buona rider e niente una commedia nera coi fiocchi un film cotico diciamo per certi aspetti niente che si arricchisce anche ali anche il nuovo cast sensazionale a partire dalla bellissima monica bellucci che quando ho letto è anche la partner di team vabbè denny de vito che fa per l'altro beh anche se sta per poco e poi e niente diciamo è uno di quei rari casi dove i sequel hanno un senso perché in genere i sequel si fanno sempre per ragioni commerciali sempre per sfruttare un titolo famoso e quindi fare cassa mentre qui si trovava un sequel per veramente fatto bene e per me i sequel devono essere sempre diretti dallo stesso regista del principale perché sono comunque la continuazione di quella storia quindi per me devono continuare se quell'autore della prima del primo film ancora qualcosa da dire se no non ha senso infatti per questo che la stragrande maggioranza dei sequel non ha lo stesso successo del precedente del primo film perché non hanno sostanza diciamo è niente pensavo di pensavo di rivedere anche l'attore che ha fatto il vero motivo della sua assenza ossia il fatto che sia stato coinvolto in scandali legati alla peri della pornografia e altre cose sessuale niente è praticamente chiamato il primo film non può non amare anche questo quindi consiglio a tutti quanti consiglio ancora di a tutti quanti di andarlo subito a vedere e quindi